No, non ci credo, è uscito il nuovo modello di cellulare, l'iPhone X. Paragonata a questo, mi sa che è molto meglio, ne dovrò comprare un altro. Ma dai, questo te lo sei comprato solo il mese scorso. Hai idea dei minerali che si trovano all'interno di un telefono? Litio, stagno, indio... Perché state parlando dei minerali? Perché questo ragazzo vuole buttare il suo, ma funziona benissimo. Ma cosa c'è che non va, scusa? Plende, wifi, soneria a posto, batteria? Cioè, a parte lo sfondo di divano va tutto bene. Ti faccio un piccolo esempio perché, per spiegarti che stai facendo una brutta cosa all'ambiente, lo spessore di un telefono è di 7 mm e solo moltiplichiamo per tutti i cellulari al mondo, che sono 1,5 miliardi. Aspetta che guarda la rarola di scienziati, riva esattamente 10 miliardi e 500 miliardi. Prego. Ecco qua, questi sono millimetri, che in chilometri sono proprio 10.500 chilometri. E sai quanti sono questi? Sai come possono perforare la Terra? Guarda. Oltre al nucleo, capisci? Lo sfondo a tutto il niente. Ci sono state che guarda la Terra. Chi è il nostro canale. Facce il nostro canale. E wa che sp發現a la Terra?